Il mio popolano è stato fatto con il trade di casa in grande, mirate lo splendore e la superbia di questo cavaliere che con se stanza mirabile e alterita cammina per le nostre strade. Egli è uno di quei cavalieri che giurano di portare giustizia, di portare fratellanza, di portare ordine in queste terre. Uno di quei cavalieri che giurano di difendere i deboli con la forza dell'acciaio, dai confusi dei potenti. Dove sono questi cavalieri, signore, io vi chiedo? In questa terra desolata, in questa terra dove la gente piange, soffre, dove sono? Rispannetemi ovunque ve ne sia bisogno, cavaliere, ovunque, là, chi segue l'antico codice, tutta sangue e suore per combattere le ingiustizie. Il vero, mio buon signore, allora siete giusti nel posto corretto, nel posto giusto. Qui la gente è sempre più oppressa e si riesce a dire anche a te nel potere. La gente piange, soffre, carestia, non è un'altra attività. Ecco ciò che ti hanno portato. E voi, 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 voi continuate a seguire vecchie padre, vecchie idee, morte e sepolte. L'antico codice lo chiamavano. Io scelgo il mio onore, scelgo la mia spada, il mio cuore. Ho porto speranza le sue. Io ero uno di voi, io ero uno di quei cavalieri che con tanta superbia c'erano di poter cambiare nel mondo rendono un posto migliore, rendono un posto migliore per i mari e i figli, e la polla e la gente. Come si è tornato a questa strada, signori? È una follia! L'antico codice è solo un sogno e noi ce ne vedrà mai! E' un po' rorso trai. E' un po' rorso trai. E' un po' rorso trai. Il mio nome, mio signore, è un fan favorevole, io ero un peco, almeno di quanto è la terra. Ora, tutto ciò che mi rimane è la disillusione, dei sogni che si intangono nella porta. Ma se voi siete così convinti di ciò che credete, se siete così convinti che il vostro acciaio può cambiare questo mondo, e allora vi chiedo di dimostrarmi, ho qui sul campo col vostro valore. Dimostratemi che c'è ancora strada per questa terra e per questa terra. Ebbene, signore, vi sfido a simulare il zone, a un quello cortese, per mostrarvi che l'onore dell'antico codice non è morto. E allora, signori, io sono davanti a Dio che voi, al pari del codice, dell'antico codice morto, che è ancora servito, voi mangierete la terra e la porta. E' un po' rorso. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.